Ci eravamo lasciati nello studio, radio, qualche tempo fa, ci ritroviamo qui. Sì, ci ritroviamo qui dopo una vittoria importante che ci serve per il morale e per andare avanti comunque anche in Coppa Italia perché vincere aiuta a vincere, quindi questa è una vittoria importante e adesso abbiamo già la testa domenica. Ti abbiamo visto fare un paio di interventi decisivi, diciamo che insomma giustamente l'avversario non è come dire di Serie A però è stata comunque una prova di carattere. Sì, faccio il mio lavoro, speravo di parare il rigore domenica, purtroppo non ci sono riuscito, oggi sono riuscito a metterci una pezza quando serviva, questo è il nostro lavoro e sono contento per la squadra per questa vittoria. Senti, un paio di interventi aerei però te li abbiamo visti fare, spettacolo. Ha fatto quello che era necessario in quel momento. Grazie mille, allora anche a Pierluigi Gollini, insomma vi vediamo tutti molto soddisfatti comunque, ci siete passati davanti, finalmente abbiamo visto dei bei sorrisi. Eh sì, è vero perché questa vittoria come ho detto ci aiuta molto e ci serve per il nostro morale perché dopo tanti risultati negativi vincere appunto noi giochiamo, ci alleniamo, diamo sempre il massimo e poi quando non arrivano i risultati è la cosa più difficile. Quindi stasera finalmente è arrivata questa vittoria che speriamo ci faccia sbloccare anche per il campionato. Pierluigi ora testa all'Empoli? Sì, noi da domani iniziamo già a lavorare, la testa è già all'Empoli e iniziamo a lavorare da domani per domenica.